Il primo gol della Roma è al 28esimo, l'azione è impostata da Policano, il tocco di Pruzzo, quindi Boniek, la palla si impenna, la difesa del Cesena sta un po' a guardare per la verità e Feller segna l'1-0. Il raddoppio tre minuti più tardi, l'azione è molto bella, gran merito è di Tempestilli, che scambia in velocità con Giannini, quindi con Boniek che si propone per il triangolo decisivo. E' del polacco il 2-0.